Questo è l'angolo preferito del mio giardino. Ha alle spalle una bella visione. E perché vi mostro questo? Perché voglio farvi vedere alcuni libretti. Il Calepino dell'Azionista, 1988. Questi me li mandava Mediobanca. E qui ci sono i bilanci di tutte le società quotate sul mercato. E io me li studiavo. Ce n'ho altri 30-35 nel mio studio. Compreso questo del 2000. La meridiana dell'investitore. E perché se non ne magni di numeri, e poi quando ti raccontano le barzellette, te le bevi alla grande. E perché dico questo? 1989. Perché vi voglio raccontare una storia di una passione che poi in questi giorni mi torna utile. A presto.